anzi umano e postumano, ed è forse uno dei modi... Sì, 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 ho incontrato il suo socio a Siena. E sì, è un orizzonte, era già un orizzonte interessante, l'ho diventato ancora di più adesso, perché ci porta nel campo delle realtà virtuali, ed è uno strumento che permette di non solo vedere e sentire, ma anche toccare con mano, una cosa che finora era riservata alla concretezza più pura, se tocchiamo con mano, e loro stanno lavorando per farci toccare con mano la realtà virtuale. Qui si fermano le mie competenze tecniche, non so nient'altro, però fortunatamente c'è Guido che ce lo spiega. Grazie mille, grazie. Ciao a tutti, buongiorno a tutti, grazie mille per l'introduzione e grazie mille per avermi invitato, è un enorme piacere per me essere qui, festival fighissimo, io sono di Tricarico, non lo conoscevo, dovete spingere tantissimo di marketing, perché sta roba deve essere conosciuta, è molto molto bella, e vi ringrazio per avermi invitato. Oggi parliamo di una roba che penso non abbiate mai sentito prima, si parla di aptica, oggi parliamo di tecnologia per digitalizzare il senso del tatto. Io sono uno dei fondatori di WeArt, che è una società, una start-up che è nata nel 2019, ha sede a Milano, io sono di Tricarico, ma vivo a Firenze, e questa società si occupa di produzione di device, di dispositivi, in grado di aggiungere sensazioni tattili a qualsiasi esperienza digitale. Oggi tutte le nostre esperienze digitali di fatto coinvolgono sempre due dei nostri sensi, che sono il senso della vista e l'udito. Grazie ai nostri dispositivi e alla nostra tecnologia, oggi abbiamo la possibilità di aggiungere un terzo senso all'esperienza digitale, che è il senso del tatto. E quando parliamo di esperienze digitali parliamo sia di esperienze di realtà virtuale, realtà aumentata, sia di contenuti multimediali più semplici, video, foto, che grazie a questa tecnologia vedono una terza traccia, una sorta di traccia tattile che aggiungiamo alle tracce audio-video durante la fruizione dell'esperienza. Vi anticipo che questa tecnologia non vita di eroe basta con le parole, ma ve la faccio provare. E quindi alla fine del talk e prima del pranzo o durante il pranzo ci sarà la possibilità di provare i nostri dispositivi in uno scenario di realtà virtuale che abbiamo montato nel ristorante. E quindi possiamo toccare con mano la tecnologia aptica. Allora, iniziamo a familiarizzare con questa parola. aptica è una parola che deriva dal greco, dal concetto di contatto. Con aptica ci si riferisce a tutte le tecnologie per digitalizzare sensazioni tattili. Siamo partiti da un'esperienza di ricerca. Non so se riuscite a vedere lo schermo, ci sono un po' di immagini e un po' di video che aiutano a capire la nostra storia e quello che proponiamo oggi. Siamo partiti da un laboratorio di ricerca appunto all'Università di Siena, un laboratorio di robotica da sempre specializzato nello studio della mano umana che è il nostro organo di presa ed è quello che tipicamente ci differenzia delle altre specie animali proprio perché ci dà la possibilità di interagire col mondo circostante in una maniera molto più evoluta, cioè afferrando oggetti, manipolandoli, esplorandoli e la mano umana di fatto ospita la maggior parte dei nostri recettori tattili, quindi è l'organo che utilizziamo per percepire l'ambiente circostante. A Siena ci siamo da sempre focalizzati nello studio della mano e abbiamo iniziato a sviluppare applicazioni di robotica, partendo dallo studio della mano umana abbiamo iniziato a sviluppare algoritmi di controllo per le mani robotiche e anche dei dispositivi per le mani umane che sono poi oggi i prodotti di WeArt e quindi quello che proponiamo, dispositivi in grado di interagire con la mano umana applicando sulla pelle dell'utente forze, vibrazioni, stimoli termici, quindi dei dispositivi tattili, indossabili, immaginate tipo un guanto che ti applica delle sensazioni tattili durante un'esperienza. Siamo partiti da applicazioni di ricerca come quelle che vedete in questo video, quindi legate alla robotica. In questo video, non so se riuscite a vedere lo schermo, c'è una mano robotica che interagisce in ambiente remoto, quindi toccando oggetti, assemblandoli, esplorandoli e dall'altra parte c'è un utente che utilizzando questa tecnologia percepisce sulle proprie mani quello che sta facendo il robot in ambiente remoto, quindi una tecnologia che trasferisce il senso del tatto da Milano a Los Angeles grazie a, allo stesso modo, così come succede per le immagini e per l'audio, quindi acquisendo da una parte, come fa una macchina fotografica ma per il tatto, e riproducendo dall'altra parte, quindi digitalizzare significa remotizzare un senso, acquisisco con una sorta di microfono da una parte e dall'altra riproduco. Grazie a questo tipo di tecnologia io posso remotizzare il tatto. Potrei immaginare uno scenario per cui io tocco questo tavolo in questo momento e Luigi dall'altra parte del mondo lo sente sulle proprie mani grazie a questa combinazione di microfono e speaker ma per il senso del tatto. Partiamo da esperienze di ricerca su un concetto molto semplice che è la base dell'aptica. Allora, l'aptica è tutta riassunta in questa slide. Che cosa succede quando io tocco un oggetto? Tocco l'oggetto, applico delle forze sull'oggetto e l'oggetto mi restituisce delle forze che sono opposte, in pari intensità e con verso opposto rispetto a quelle che sto applicando io. Ora, se io sostituissi questa poltrona con un robot in grado di applicare le stesse forze che la poltrona sta applicando su di me digitalizzerei questa interazione. Potrei riprodurre anche senza la poltrona reale con un robot quello che sta facendo la mia mano con l'oggetto. Quindi in questa slide vedete c'è una pallina la tocco, sostituisco la pallina con un braccio robotico che mi restituisce le stesse forze come se stessi toccando la pallina e questo diventa un modo per digitalizzare. Posso non avere gli oggetti reali ma semplicemente un unico robot che restituisce le stesse forze che restituirebbero gli oggetti se li stessi toccando e quindi mi permette con lo stesso dispositivo di ricreare le sensazioni tattili di miliardi di oggetti con caratteristiche tattili diverse proprio perché il robot è uno strumento universale. Quindi io tolgo la poltrona metto il robot e lì è come se stessi interagendo con questo. Questo è il concetto alla base dell'aptica quindi un dispositivo robotico che applica sulla mia pelle le stesse sensazioni applicate dall'oggetto reale. Siamo partiti da dispositivi ingombranti e costosi che sono appunto dispositivi che si chiamano interfacce aptiche che sono dei robot abbastanza complessi e che costano decenni di migliaia di euro. A Siena quello che abbiamo fatto è stato rendere indossabile a questo livello quindi realizzare dei dispositivi molto piccoli stampati in 3D che costano pochissimo e che interagiscono con la pelle dell'utente in maniera wearable. Quindi non c'è bisogno di una stanza con un mega robot dentro ma un guanto che fa la stessa roba cioè applica le forze applica le vibrazioni applica gli stimoli termici e questo apre le porte per questa tecnologia a una miriade di applicazioni che sono anche più accessibili a livello economico agli utenti. Che cosa succede quando tocco un oggetto? Quando tocco un oggetto tipicamente succedono tre cose scusate non riesco a far partire il video ok succedono tre cose pressione quindi tocco l'oggetto e sento la forza di contatto quindi la rigidezza dell'oggetto la presenza dell'oggetto poi inizio a esplorarlo e sento quello che noi chiamiamo texture ok quindi la ruvidezza dell'oggetto le caratteristiche superficiali dell'oggetto e del materiale e in più sento la temperatura di quell'oggetto quindi sono tre i pillar diciamo gli elementi fondamentali della sensazione tattile queste vele le dobbiamo fissare sono i pillar fondamentali della sensazione tattile forze, vibrazione e stimoli termici che per noi sono un po' come se fossero l'RGB del tatto ok le tre componenti fondamentali che combinate riescono a rendere qualsiasi immagine tattile proprio grazie a questa combinazione pesata di forze, vibrazione e stimoli termici e questo è quello che fa la nostra tecnologia siamo partiti da Siena in particolare da un progetto dieci anni fa con un progetto europeo che si chiama Wear Up con dei dispositivi che applicavano solo delle forze sui polpastrelli ok quindi questo concetto della poltrona ma quindi a livello indossabile dispositivi molto semplici 2013 il primo prototipo poi abbiamo iniziato ad aggiungere le vibrazioni quindi che vuol dire la poltrona la tocco sento che è rigida o meno rigida ma poi quando comincio a esplorarla sento anche le vibrazioni che quindi significano la ruvidezza del materiale e la superficie e poi nel 2017 siamo arrivati allo sviluppo della tecnologia che aggiunge le sensazioni termiche fondamentali per distinguere i materiali ma anche perché completano la sensazione e nel 2019 abbiamo fondato WeArt con l'idea di portare sul mercato questa tecnologia ora quando abbiamo fondato la società una delle sfide principali per un ricercatore io ho fatto il dottorato di robotica a Siena quindi non ero un imprenditore non avevo a che fare col mercato una delle prime regole che ti insegnano quando passi dalla ricerca al mercato è non innamorarti della tecnologia ma innamorati del tuo cliente quindi abbiamo fatto abbiamo avuto tutta una fase in cui abbiamo iniziato a chiederci ok questa tecnologia l'abbiamo sviluppata può fare tutte queste cose dove le applichiamo chi è il cliente in grado di pagare per questa innovazione quali sono i mercati di riferimento abbiamo fatto diversi studi diversi user test eccetera e questo potete immaginare per esempio l'e-commerce quindi immaginate la possibilità di acquistare un oggetto online e oltre a poterlo vedere tante volte non si acquista i vestiti online perché uno li vuole toccare per capire il tessuto la qualità dell'oggetto immaginate la possibilità di andare su un sito e oltre a vederlo l'oggetto poterlo anche toccare percepire farne esperienza e quindi completare l'esperienza di e-commerce con un terzo senso diciamo che se vogliamo comprare un gioiello di verre e gioielli poterlo percepire attraverso la pelle non solo attraverso gli occhi e quindi completare l'esperienza oppure contenuti aumentati tutti noi oggi facciamo le storie su Instagram immaginate la possibilità di condividere la storia di me che sono sulla spiaggia con il cocktail in mano e gli utenti che guardano la storia oltre a poterla percepire con gli occhi possono percepire il freddo del cocktail che sto toccando quindi completare l'esperienza di condivisione con un altro utente o con un'altra community videochiamate aumentate soprattutto durante il covid abbiamo fatto overdose di videochiamate che sono tutte esperienze che si vivono attraverso gli occhi e attraverso le orecchie quindi abbiamo un'esperienza audiovisiva immaginate la possibilità di aggiungere il tatto quindi io posso toccare un oggetto da una parte e sentirlo dall'altra parte quindi connessione tra utenti che passa anche attraverso un altro senso che è il senso del tatto che peraltro è il senso più vicino alla nostra sfera emotiva quindi crea anche un coinvolgimento emotivo più forte rispetto alle esperienze classiche giochi ovviamente immaginate la rivoluzione che c'è stata col DualShock soltanto perché il DualShock vibrava quindi dava sensazioni tattili aggiunte all'audio video peraltro la Playstation ha da poco annunciato che nei nuovi controller ci saranno esperienze di caldo freddo quindi il tatto come veicolo di coinvolgimento di engagement molto più profondo dell'utente in un'esperienza di gioco di entertainment e infine esperienze di realtà virtuale che possono essere di gioco ma tipicamente sono legate al training al marketing quindi indosso un visore quindi digitalizzo la parte visiva indosso le cuffie per l'audio e poi indosso questi guanti che mi immergono nell'esperienza di realtà virtuale o di realtà aumentata aggiungendo appunto il senso del tatto che mi permette di toccare un oggetto esplorarlo eccetera ed è proprio questo il mercato di riferimento a cui ci siamo rivolti è un mercato in fortissima ascesa ci sono più di 15 milioni di visori venduti oggi la realtà virtuale viene usata forse non tutti voi avrete mai provato un visore perché non è ancora una tecnologia molti di voi sì perché siete in un evento di tecnologia quindi sicuramente appassionati e avete avuto a che fare con queste tecnologie ma non sono ancora device che arrivano nelle nostre case ma ci sono tantissimi visori nelle aziende perché le aziende usano la realtà virtuale per fare per esempio il training agli operatori quindi in un ambiente industriale invece di fermare l'impianto e fare training posso virtualizzare questa cosa oppure i chirurghi che si possono addestrare oggi soltanto sui cadaveri costa tantissimo farlo e ce ne sono pochissimi di cadaver lab nel mondo e invece grazie a questa tecnologia rendo tutto molto più facile molto più accessibile allora noi ci stiamo rivolgendo alle aziende per portare questa innovazione in una qualsiasi esperienza di realtà virtuale oggi le esperienze di realtà virtuale più classiche sono di questo tipo quindi gli utenti hanno dei joystick in mano dei controller afferrano gli oggetti cliccando toccano gli oggetti muovendo le mani ma hanno dei joystick che è tutta un'altra roba rispetto all'esperienza reale cioè io quando afferro un oggetto nel mondo reale non è che clicco con un joystick lo afferro muovendo le mani e lo percepisco attraverso i miei polpastrelli attraverso la mia pelle questa è l'innovazione che stiamo portando restituendo appunto un modo naturale di interagire col mondo digitale con l'ambiente virtuale e sia dando un'esperienza più naturale dal punto di vista dell'input cioè quindi l'utente non clicca ma afferra muove le mani tocca come facciamo nel mondo reale lo faremo in realtà virtuale lo potrete provare oggi ma soprattutto lo percepisco quest'ambiente virtuale quindi percepisco tutte le proprietà degli oggetti e delle superfici i tre pillar fondamentali li abbiamo detti forze, vibrazione e stimoli termici combinati il prodotto il primo device che abbiamo lanciato è questo si chiama TouchDiver ed è quello che vi faccio provare oggi ed è un guanto con tre punti di contatto prossima versione ne avrà sei cinque polpastrelli più il palmo prima versione tre punti di contatto pollice indice medio che vengono stimolati durante l'esperienza in ognuno di questi digitali è integrata la nostra tecnologia quindi potrete afferrare un oggetto toccarlo spingere i bottoni e durante l'esperienza queste sensazioni queste interazioni vengono restituite dal punto di vista tattile questo prodotto l'abbiamo portato in giro abbiamo avuto un sacco di rumore mediatico negli ultimi anni proprio perché è una rivoluzione del mondo della realtà virtuale riviste di settore influencer e non solo ne parlano perché rivoluziona totalmente il tipo di interazione in questi scenari anche le Iene Geopop la 7 hanno fatto diversi servizi su di noi proprio perché è una roba di cui si sente parlare pochissimo ed è molto molto innovativa innovativa al punto tale che vi faccio vedere qual è il competitor non siamo gli unici a fare questa roba nel mondo ci sono circa dieci aziende nel mondo che fanno questa roba però però c'è una differenza enorme pensate che questo è il competitor più vicino a WeArt è un'azienda che ha raccolto 150 milioni negli ultimi anni di finanziamento mentre WeArt 2 milioni e mezzo in Italia è un po' diverso quello che facciamo e hanno annunciato un prodotto per la fine del 2023 che richiede uno zaino di 8 chili per sentire forze e vibrazioni invece noi abbiamo tutto in un bracciale forze e vibrazioni e anche gli stimoli termici quindi un gap tecnologico di un'azienda italiana non ancora conosciuta che nasce da Siena oggi a Milano un gap tecnologico nel mondo veramente riconosciuto a livello internazionale e non vi voglio tediare troppo vi dico solo che ce ne facciamo di questa roba quali sono le applicazioni perché ora dice ok fighissimo sì ma che me ne faccio di toccare gli oggetti ok me ne faccio training medicale come vi ho detto quindi chirurghi che si addestrano con la realtà virtuale training industriale oppure per esempio un'altra roba che va tantissimo il training alle crew degli aerei cioè per fare addestramento all'equipaggio di un aereo si deve fermare un aereo coinvolgere tantissime persone e questo fa perdere un sacco di soldi alle aziende invece digitalizzo tutta l'esperienza metto un visore metto i guanti e permetto sia ai piloti ma anche all'equipaggio di bordo di per esempio imparare le procedure di sicurezza ma lo possono fare da casa grazie al fatto che come dicevamo all'inizio digitalizzazione vuol dire remotizzazione cioè vivo un'esperienza digitale non per forza sul posto ma grazie a questi strumenti anche se l'oggetto o la valvola o il portellone dell'aereo che devo imparare ad aprire in un certo modo non ce l'ho sotto mano ma è tutto in un'esperienza che è come se fosse un gioco come un videogame ma in realtà è un'esperienza che serve a salvare vite prego caro esatto devi sapere che quando ti ci troverai devi sapere che magari devi aspettare un click oppure applicare una certa forza e questa roba o la impari sul portellone vero oppure la impari in realtà virtuale ma devi avere la parte tattile per capirlo retail quindi esperienze d'acquisto aumentate con sensazioni tattili dimmi caro no 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 vai via lì quello che hai fatto vedere era il dispositivo per la ricezione no sì per la riproduzione ottima domanda no è molto più piccolo in realtà può essere integrato in un anello o in una penna cioè noi abbiamo brevettato oltre al dispositivo per la riproduzione abbiamo brevettato il dispositivo per l'acquisizione delle sensazioni tattili che è una specie di microfono tattile il primo è lo speaker e questo è il microfono ma sto microfono è una roba molto piccola che va in una penna che posso utilizzare per scannerizzare questo tessuto acquisirlo registrarlo come se fosse un audio registrarlo metterlo nel nostro software che poi viene usato dagli sviluppatori di esperienze di realtà virtuale e l'esperienza di realtà virtuale riprodurrà la poltrona dal punto di vista visivo poi prenderò il materiale acquisito in quel momento lo assegnerò alla poltrona in modo tale che quando poi l'utente va a toccarlo lo percepisce così ed è una roba molto sono dei sensori di vibrazione termici e di forza che vanno in una penna oppure in realtà anche in un anello l'abbiamo integrato quindi proprio per fare questo tipo di interazione per abilitare la videochiamata cioè io posso toccare questa poltrona qui e un mio amico la mia ragazza il mio collega dall'altra parte del mondo sentirla come se fosse qui design cooperativo oggi si usa tantissimo la realtà virtuale per fare design degli oggetti delle macchine tantissimo perché voi siete tutti appassionati di prototyping stampa 3D eccetera ma sta roba costa molto costa molto non come diciamo quello che succedeva in passato però sicuramente la tecnologia quella additiva che chiede dei tempi di realizzazione dei costi una logistica immaginate di stampare 3D il cruscotto della macchina per farne esperienza e poi dover cambiare un epsilon una cosa piccolissima lo devo ristampare da capo invece la realtà virtuale permette di fare tutto ciò prima quindi in fasi molto precedenti rispetto al processo completo di design e poi passare alla stampa solo quando alcune cose sono consolidate questa roba è possibile farla in realtà virtuale ma grazie alla tecnologia tattile posso afferrare l'oggetto posso fare esperienza della macchina prima che la macchina sia pensata prodotta e durante il design della macchina di qualsiasi prodotto della borsa di Gucci della nuova collezione delle scarpe di qualsiasi altro prodotto design cooperativo aumentato con sensazioni tattili comunicazione tra utenti remoti l'abbiamo detto anche per il coinvolgimento emotivo delle due parti e entertainment come mercato da prodo noi sappiamo che WeArt ha come obiettivo andare nel gaming però per farlo avremo bisogno di sviluppare dei dispositivi che costano due o trecento euro alla portata di un gamer che magari spende per una sedia di gaming trecento euro e compra pure il guanto oggi il nostro device costa quattro mila euro perché ancora produciamo volumi molto piccoli per le aziende quindi non è per il consumatore finale dimmi sì sì e integrarsi nelle piattaforme come noi stiamo parlando con Sony Meta Microsoft eccetera è molto lungo sono interlocuzioni che tipicamente è molto facile che fai la riunione gli spieghi le robe anche se hai gli accordi di riservatezza firmati ti fregano tutto lo mettiamo in conto però l'obiettivo è quello di integrarsi con la Playstation VR o integrarsi con il nuovo visore Meta per fare i giochi ma devono avere tutte le informazioni tattili integrate nell'esperienza quindi diciamo ci sono diversi passaggi sia di integrazione hardware che soprattutto di integrazione di contenuto perché oggi i giochi hanno tutta la parte visiva ma c'è qualcuno che deve dire che quando sparo sulla pelle devo sentire il caldo ma c'è un processo di sviluppo di codice di programmazione per farlo e quindi rendere integrata questa parte nei giochi è una roba che in fase di costruzione noi stiamo sviluppando delle piattaforme che renderanno sempre più semplice farlo però passa da accordi quindi abbiamo diciamo da qui una roadmap nel 2027-2028 di avere un device di 300 euro che possa essere pronto per il gaming e basta queste sono diciamo tipiche non so se vedete i video ma insomma tipiche interazioni di training industriale quindi utenti che afferrano gli oggetti assemblano un motore disassemblano una parte bravissimo esatto esatto quello che vi ho fatto vedere prima il primo video è una teleoperazione cioè robot in ambiente remoto utente da questa parte sensori sulla mano quindi il microfono è sulla mano robotica e lo speaker è sull'operatore il robot Da Vinci per esempio robot che si usa in chirurgia e che può essere usato viene usato però oggi viene usato senza feedback quindi il chirurgo opera taglia incide col Da Vinci ma ha solo feedback visivo non sente sulle dita quello che sta facendo come se fosse lui a farlo e quello è l'obiettivo in realtà perché il robot serve a remotizzare a non tremare serve ad impedire delle zone dell'operazione quindi rende tutto molto più sicuro ma per fare le robe così come per rendere l'operazione simile a quella che si ha quando è il chirurgo ad avere la mano lì ci vuole il feedback tattile quindi assolutamente si può fare in real time perché i sensori leggono da una parte gli attuatori attuano dall'altra anche in tempo reale come vi dicevo è come avere una videochiamata però in quel caso c'è un cavo o puoi farlo via internet è come trasferire un'immagine anzi in realtà il segnale che noi trasferiamo è anche molto semplice dal punto di vista di beat perché il tatto è un senso molto sviluppato è il primo senso che ci si sviluppa ma è anche low resolution diciamo cioè molto meno risoluto degli occhi quindi l'informazione si trasferisce facile così come l'audio le texture sono come delle forme d'onda come quelle di una canzone però sono forme d'onda che suonano sulla nostra pelle invece che nelle nostre orecchie si lo si è qua prangere ciao ti sento ciao vorrei fare una domanda tu parli di trasmissione dell'informazione quindi riusciamo poi a captare queste informazioni con la nostra mano ma come fate a fare l'acquisizione attraverso questa specie di microfono che descrivevo che è una specie immagina una penna che ha dei sensori dentro sensori di vibrazione sensori di forza e sensori di temperatura guarda la temperatura è forse quella più facile da comprendere un termometro dentro la penna ok io misuro la temperatura di questo oggetto caldo freddo una certa temperatura è un numero lo prendo e lo passo da un'altra parte del mondo dove c'è l'attuatore che è un dispositivo che diventa caldo e freddo e setto il calore di quel dispositivo al valore che ho letto lì quindi io sto toccando a distanza quell'oggetto cioè io prendo la misura del termometro che mi dice che quell'oggetto è a 38 gradi ok e dall'altra parte ho un dispositivo a cui applicando una certa corrente questo va esattamente a 38 gradi e quindi è come toccare la poltrona a 38 gradi 38 gradi una poltrona spiando fuoco ma vabbè ok quindi il concetto è questo lo stesso modo faccio con le forze le forze sono ho un sensore di forze che misura l'interazione quindi io prendo questa penna ok la spingo sul tavolo diciamo ne misuro la rigidezza quindi sento la differenza tra il tavolo e la poltrona appunto per esempio che è molto più morbida ok ma non dipende pure dal tipo di pressione assolutamente bravissima l'importante è controllare il robot sempre allo stesso modo quindi questo microfono viene movimentato da una struttura che applica sempre allo stesso modo l'interazione e quindi io tocco qui tocco qui se fosse il tavolo mi restituisce 10 newton ok la poltrona 3 newton a parità di penetrazione e quindi questo è il valore di rigidezza ok me lo memorizzo se voglio digitalizzare il tavolo ho la poltrona da una parte a parità di pressione avrò 10 newton e dall'altra 3 newton ok grazie grazie a te per la domanda molto molto profonda ok basta vi ho fatto vedere già casi d'uso questo è un caso d'uso di un veicolo dimmi è un po' scomoda lo sai che c'è l'elefante nella stanza che sicuramente ci abbiamo pensato tutti il porno eh questa cosa che tu hai in mano rivoluziona completamente il mondo del porno non direi questa cosa che tu hai in mano perché già hai visto hai visto avete pensato affrontato questa cosa come vi ci rapportate sì allora in realtà io quando facevo le demo all'inizio c'avevo mech grazie l'acqua non basta eh allora quando facevo le demo all'inizio c'avevo un giochino io c'avevo un timer dove uno iniziava a provare cominciava a parlare io facevo partire il timer e vedevo dopo quanti secondi questo mi diceva ma è il porno ok perché perché in realtà questa tecnologia quando io vi parlo velatamente di coinvolgimento emotivo vi parlo anche di questo tipo di interazione è assolutamente uno dei mercati più promettenti per qualsiasi innovazione tecnologica allora sì in realtà lo stiamo digitalizzare un'esperienza diciamo a me non interessa l'immagine tattile che rendi può essere l'albero la poltrona può essere la pelle umana quindi allora noi la nostra filosofia cioè il nostro modello di business è fornire device ai creatori di contenuti poi i creatori di contenuti ci possono fare quello che vogliono e ci sono già dei creatori di contenuti che per esempio usano i visori per creare i video di intrattenimento per adulti in prima persona 360 allo stesso modo puoi integrare le sensazioni tattili nessuno ti impedisce di farlo ti dirò di più stiamo realizzando e partiremo a ottobre probabilmente un sistema di remotizzazione di un'esperienza sessuale per utenti che per esempio sono fermi a letto per qualche patologia e che uno dei problemi principali di chi ha questo tipo di patologie di cui non si parla mai ma in realtà è proprio quello di non avere possibilità di interazione sessuale emotiva e di relazione con l'altro sesso e ci sono situazioni in cui i genitori sopperiscono in modi che potete immaginare non proprio banali allora noi stiamo realizzando un sistema che stiamo proponendo alle ASL per avere esperienza di realtà virtuale avatar ultra realistici nel mondo virtuale e anche sensazioni tattili lo so sembra un'aberrazione ma in realtà ci sono delle pulsioni che queste persone non riescono mai a sfogare e anche con dei toys collegati quindi dei sex toys collegati all'esperienza questa roba diventa possibile e a proposito di sex toys WeArt ha un contratto di esclusiva con una major che non posso nominare ma potete immaginare è una delle più grandi aziende che produce i preservativi e non solo e anche i sex toys per integrare questa tecnologia nei sex toys del futuro quindi sex toys che oltre a vibrare applicano anche forze e cambiamenti di temperatura perché è un modo nuovo di connettere persone a contenuti digitali o persone e persone quindi sì assolutamente un campo molto interessante altro campo di cui non vi ho parlato è quello dei non vedenti sempre per parlare di tecnologia di supporto di ausilio i non vedenti quando tutti noi entriamo in un museo noi non possiamo toccare le opere ma noi possiamo vederle le opere tanti i povedenti non vedenti non hanno modo di percepirle in nessun modo se non con l'audio guida che le descrive oppure con la stampa 3D cioè si fanno le stampe 3D riproduzioni di statue basso rilievi per dare la possibilità all'utente di toccarla di esplorarla e quindi di visualizzarla attraverso la pelle però ancora una volta per stampare 3D la riproduzione di un'opera serve spazio nel museo costa non posso zoomarla eccetera noi riusciamo a digitalizzare questa interazione grazie a una tecnologia e quindi pensate alla possibilità per un utente ipovedente non vedente di entrare in un museo o di farlo da casa ma noi preferiremmo mantenere il museo come luogo di condivisione quindi entrare in un museo ma percepire l'opera attraverso attraverso una sorta di o il guanto o una sorta di mouse che gli permette di esplorare quindi trasformare un quadro in un basso rilievo e far percepire la gioconda a un ipovedente che se no non ne potrebbe avere mai esperienza durante tutta la vita quindi visualizzare attraverso il tatto e questo in realtà apre anche scenari diversi per cui in realtà può essere un quadro ma può essere un jpeg qualsiasi quindi un utente che sta a casa gli arriva l'immagine e purtroppo i non vedenti i povedenti queste immagini è un canale proibito diciamo per loro perché appunto hanno e il tatto sopperisce facendo quello che si chiama sensory substitution cioè uso il tatto per visualizzare una roba un'immagine e questa sarebbe dirompente per tutte quelle persone tutta quella comunità prego grazie mille grazie mille cioè quali sono le controindicazioni diciamo di questa tecnologia cioè potrebbe essere che il guanto impazzisce non lo so ti fa arrivare a 180 gradi e ci fai l'uvo fritto no in realtà sì questa è tecnicamente la temperatura vabbè la cosa più critica per certificare il device perché i device sono certificati come qualsiasi però i cellulari vibrano e basta quindi scambiano energia col corpo ma vibrano e basta quindi è più semplice farlo un device che diventa caldo e freddo è un casino certificarlo perché puoi fare danni alle persone in realtà noi abbiamo per esempio sul device tre livelli di sicurezza che fanno sì che oltre i 42 gradi non possa mai arrivare il device software se impalla il software interviene una roba che si chiama firmware cioè il codice dentro al device stesso e se si impalla pure il firmware contemporaneamente c'è uno stacco hardware che stacca la scheda e riporta il device quindi a temperatura ambiente quindi il problema tecnico non c'è in realtà c'è un problema etico dietro a sta roba è che più digitalizziamo i sensi e più gli utenti tenderanno e potrebbero tendere ad avere meno esperienze reali e tutte digitali questo in realtà è il problema che ci poniamo cioè non vogliamo avere gente che si tocca a distanza chiusa nelle proprie case anche per interazioni con l'altro sesso che sarebbe un mondo che non vogliamo assolutamente ma questo è lo stesso problema che abbiamo con gli schermi cioè con i cellulari con i visori con internet quindi questo problema sottostante c'è ma noi per esempio proponendo questa innovazione delle opere d'arte dentro i musei prima di arrivare a casa facciamo proprio questo cioè l'ipovedente non deve stare a casa a toccare la gioconda deve andare al museo perché così sente le voci delle altre persone vive un luogo anche con l'olfatto con l'udito anche se il video se il video ha problemi diciamo se la parte visiva non funziona come dovrebbe però la parte tattile sopperisce ma cerchiamo di non chiudere le persone dentro le case e quindi far sì che la tecnologia sia comunque uno strumento che aiuta supporta e non non isola non isola le persone anche se stiamo appunto rendendo tutto remotizzato però il nostro problema principale etico è questo e cerchiamo di dare sempre delle soluzioni che insomma non comportino questo isolamento ok concluso grazie mille a tutti se volete venire a provare il device è tutto montato nel ristorante prima che Luigi mi faccia ubriacare definitivamente quindi ok grazie grazie mille il gentilissimo Paolo ciao